Vorrei riprendere quello che ha detto il Presidente della Repubblica che andrebbe vista la disabilità come una risorsa, un'opportunità. Magari cercando di conoscere proprio nel profondo le persone che hanno le difficoltà. Potrebbero capire tante cose e magari imparare gli uni dagli altri. Ilaria Bidini, giovane e aretina affetta da osteogenesi imperfetta da anni impegnata in prima linea per i diritti dei disabili, ha deciso di far sue le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, pronunciate in occasione della giornata internazionale delle persone con disabilità. Non fermiamoci alla parola disabilità, alla fine è una parola. Io, come dico sempre, e ho avuto modo di constatarlo in tanti campi, i limiti sono soltanto nella nostra mente e imposti a volte. Accessibilità resta la parola d'ordine per Ilaria. Non ha qualche miglioramento nel corso degli anni, comunque l'ho visto, per esempio ho notato che sempre più locali si stanno attrezzando con la pedana, quella portatile. Tutte le volte, quando appena apro il locale mi informo, a volte mi viene risposto, a volte no. Ho notato che però se si cerca di arrivare alla sensibilità e al cuore delle persone, parlandoci normalmente con educazione, magari si riesce a fare molto. Alla lotta contro le barriere architettoniche poi si aggiunge quella contro quelle mentali. Perché ci sono ancora tanti pregiudizi, come per esempio anche sulle relazioni e la disabilità, si pensa sempre che sia chissà quale tragedia, oppure si tende a vedere la persona disabile come una persona che ancora non può lavorare, non può fare certi tipi di lavori, deve fare per forza lavori di ufficio. Oppure anche un pregiudizio che io dico pregiudizio al contrario, vedere la persona disabile come un eroe, quando tutto quello che fa, che facciamo, tra parentesi, è fare la propria vita alla fine.